L'Università 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 con gli occhi partiti, io è morto, io penso che questa mia generazione preparata a un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se di muore per tre giorni e poi risolto, in giocano e crediamo che è risolto, in giocano e volviamo che è risolto nel mondo che faremo, che è risolto, che è risolto, che è risolto, che è risolto Grazie